Finalmente siamo riusciti a riniziare questa stagione di concerti che era stata tanta richiesta dalla cittadinanza con la collaborazione della USLE, degli amici di Banche Truria e dell'Unicoppe possiamo riproporre una serie di sei concerti la domenica pomeriggio, a incominciare dal 2 di febbraio dove appunto abbiamo un bel trio da me, composto da Andrea Tachi che è stato anche il primo violino dell'orchestra della Scala e da Fabiana Barbini al pianoforte per Shostakovich e Brahms due bellissimi tri, poi il programma è tutto veramente da condividere sono sei appuntamenti, uno più interessante dell'altro Quello che contraddistingue da sempre Banca Truria è l'essere vicini alla cittadinanza, alla città e soprattutto essere vicini a chi soffre perché questi concerti sono all'interno di un ospedale La manifestazione è senz'altro pregevole, pensare di allargare e aprire le porte dell'ospedale a questi eventi, a questa iniziativa che permette e magari consente un'ora di svago a malati, adegenti, ai familiari al personale stesso è sicuramente un'iniziativa assolutamente meritoria Il nostro intervento si inserisce nel solco di una tradizione che ci vede da 130 anni nel sostenere da più di 130 anni nel sostenere le iniziative più meritevoli dal punto di vista sociale, culturale e che vanno in qualche modo a vantaggio della collettività dove operiamo e che vanno in qualche modo a vantaggio